Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso video ho completato il terzo DLC sconfiggendo anche la furia Xenoverse che si era impossessata di Tamara e non so se se ne è andata definitivamente la furia ma non credo, anzi c'è dato un messaggio anche Chaos Omnia Impera, non ho idea di cosa voglio indicare, ma si inizia oggi con il quarto DLC, quello più difficile forse. Parliamo con questo tizio qui, la maschera, Joelle, ah è Joelle, ehi sei Link, non potrei mai scordarmi te, neanche io di te Joelle. La mia regina mi ha incaricato di consegnarti questa missiva di invito dicendomi che era una questione estremamente importante. Dovrò affrontare i quattro cardinali di nuovo, ma a quanto pare devo andare ad Acquariopoli quanto prima? E ci sono, è la prima città che ho trovato dopo essere uscito dalla grotta, la prima che ho puntato era questa, stranamente. La regina ha anche detto che dovresti già sapere il luogo dell'appuntamento e quindi ti attenderà lì. Devi tornare al palazzo a montare la guardia. Non so il luogo dell'appuntamento, qual è? Ah, a caso, totalmente a caso. Merbena, oh quanto tempo è già esatto. I tuoi gesti dell'Oxenoverse hanno fatto il giro della regione. Grazie. Sembra passato la diridata quando scacciosti quel ganger. Eeeh, più di un anno. Forse. Link vorrei che andassi a controllare che il rituale dei cardinali stia procedendo come previsto. Quindi devo riaffrontare i cardinali. Come già ben saprai, mio nonno Leandro è un cardinale, e deve quindi assolvere i suoi compiti in quanto tale. Il rituale che i cardinali devono portare a termine è estremamente faticoso e, nonostante venga eseguito solo una volta ogni cinque anni, riesce a sottrarre loro tutte le energie. Ah, quindi attacchiamoli mentre sono deboli. Ah, il rituale ancora non si è concluso. Però sono deboli. Dopo due settimane! Cioè, dura due settimane, ci credo che sono stanchi. Questa volta è passato un mese e ancora non si... Madonna. Che è successo allora? Sarà in vacanza. Quindi devo andare a controllare. Sì, chiedi ancora il mio aiuto. Tutto sotto controllo, faccio affidamento su di te. E questo è quanto? È altro da dirmi? Sono come il rosso, non parlo. Va bene. Ti faccio sapere qualcosa quando scopro il... Oh, chi è? Fammi stare? Cosa? Chi è? Attiva l'olocamera. Eh, sarebbe giusto... Oh, Tarassaco, giustamente. Sembra che il collegamento sia più stabile del previsto. Dobbiamo parlare di altro. Giusto. Riusciresti a venire all'isola Pigliapesci? E bell'occhio abbiamo avuto un'idea incredibile. Riguardo cosa? Andiamo all'isola Pigliapesci? Tu, tutto a posto? Vabbè, ti faccio sapere qualcosa quanto prima. Va bene. Eh, quante missioni? Quante missioni? Isola Pigliapesci, arriviamo! Let's go! Eh, eccolo qua. Meno male. Toccava fare un altro giro lungo. Ben arrivato, Link. Gli altri ci stavano aspettando dentro. Ma, ottimo. Oh, Alice! Benvenuto, Link. Come puoi vedere, c'è anche una tua vecchia conoscenza. Sì, mi fa molto piacere rivederla. Eh, eh! Link, come te la passi? Beh, tutto a posto. È da un bel po' che non torno ad Eldio. Ma devo dire che tutto come l'avevo lasciato mi fa sentire a casa. La virgola e le punti, niente. Vabbè. Link, devi sapere che ho personalmente incaricato Alice di meterti nelle indagini. Qualche mese fa, visti i suoi progressi e le sue capacità, gli ho affidato un incarico con il consenso di Aster. L'obiettivo era ottenere più informazioni sulla sparizione di tuo nonno Giovanni. Avvenuta molti anni fa. Eh, già. È così che ho iniziato il mio viaggio per Giotto e Canto. E non è stato un viaggio facile. Ma in realtà Giovanni a Giotto non dovrebbe esistere. A parte quel cameo in Argold e sul Silverman. Ho fatto moltissime esperienze nuove e ho incontrato gli attori formidabili. Hai trovato un amichetto che ti ha dato un grande aiuto per le indagini. Chi è? Ti capisco. Sì, più o meno. Quale amichetto, però? Purtroppo, nonostante l'incredibile quantità di informazioni che Alice è riuscita a recuperare, da un certo punto in poi è vuoto su Giovanni. Sì, per forza è vuoto. Non c'è nulla. E l'abbiamo richiamata per avere più menti sul caso Furia. In effetti sì, è molto strano. Ti abbiamo chiamato qui anche per un altro motivo, Link. Ricordi l'ai percetto che il tuo sigillo Furia si è rotto nel bunker e abbandonato? È ora di rimediare. Come? Non è un altro? La Furiable! L'ultima perra tecnologica nata dalla mia abilità come scienziato. E ho un'idea di Alice. Ok. Ma a che ci serve una Furiable se tanto poi li catturiamo comunque i Pokémon che... Ah, perché sigillo. Quindi ora posso catturarli, ma prima dovevo proprio sconfiggerli. Vabbè, sì, a parte che non è che cambi poi molto. Veramente avevo solo parlato di come una volta ci fosse un certo Franz a Giotto, uno degli artigiani di Pokémon più bravi al mondo. Ho raccontato loro del mio incontro con sua nipote e pare che abbia dato l'ispirazione a Tarassaco. Dobbiamo ringraziare anche Rem per questo. Ha saputo applicare le informazioni apprese con la Xenobol in maniera magistrale. E chi è Rem? Ah, questo. Non lo so. O non mi ricordo. Link. Stimiamo che questa Furiable sia decina di volte più efficace del sigillo Furia che utilizzavo in precedenza. I processi produttivi attuali sono molto complessi e i materiali sono difficili da trovare. Ma è solo questa, usala bene. Una? Ok. Per ogni evenienza abbiamo pensato anche a un piano di riserva. Devo sconfiggerli o catturarli? Dimmi come. Va bene, anche con i cardinali occupati hanno creato un altro sigillo Furia seguendo le indicazioni. Abbiamo ricevuto l'aiuto da Astria per questo, può ringraziare anche lui. Appena passo la casa sua, lo ringrazio. Creare questa Furiable non è stata affatto facile, non sprecarla. Devo capire come usarla, però. Prima, dopo, sigillo, come... Se la situazione è come ricever bene, è veramente strano. È meglio andare in fondo a questa questione. Certo. Link, lascia che ti accompagni. Sono certo di poterti dare una mano. Ma certo. Va bene. Tra l'altro che bell'occhio mi hanno raccontato cosa è accaduto mentre ero in viaggio. Link, ne ho passate veramente tante, ma non devi abbatterti. Ora che sono di nuovo qui è una spalla su cui poter contare. Viaggio meglio da solo, comunque. Vi vedo carichi, è un buon segno. Aggerateci su ciò che scopri dal monte zodiaco. Ah, quindi facciamo doppia. Almeno ci danno a mano qualcuno. Bene. Andiamo al monte zodiaco, va. Eccoci qua di nuovo al monte zodiaco una seconda volta per affrontare i cardinali. In realtà ci ero già tornato. Però. Ah, che strano. Eh, in effetti sì. Potrei giurare che l'entrata non era così l'ultima volta che sono stata qui. Eh già, non è proprio così. C'è qualcosa di strano. Forse è perché stanno facendo rituale. Sembra come uno specchio. Ma ha un colore strano. Cosa provo di fare Link? Entriamo comunque. Cioè, entriamo di forza. Quindi vuoi provare a entrare? Sì. Ecco. Siamo molti a posto per entrare. Che sia tipo uno Xenoverse. Ma. Ma è lì sulla piglia pesci. Ah. Ah, posso muovermi. Ma. Cosa? Ma è lo stesso discorso di prima. Ecco qua, dunque. E adesso quindi non dovremmo attraversarlo allora. a meno che, a meno che non devo... Ah, ecco, 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 è diverso. Dove provare a entrare? No. Ma no. Ma di... No. Eh. Oh. Attenzione. È successo qualcosa, quindi. Sta dilirando Link. Cosa vuol dire che ci troviamo in un loop? Eccolo, 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 finalmente. Spieghi di essere andato nel monte Zoddeco insieme ad Alice per ben due volte. Ciò che dice è veramente strano. Sicuro ti starebbe bene? Forse sei troppo affaticato dagli ultimi eventi. Lei è l'unica che ci crede. E ovviamente lei ci crede. Certo. Tarassaco, penso che dovremmo dargli il beneficio del dubbio. E comunque Link, dopo tutto. Fanno il prescetto. Mmm. Se ricordo bene, nel regno di Virgopoli... Virgopoli? Circolavano l'agenda su un Pokémon in grado di controllare Paranormale. Forse dovreste provare a dirigerti lì, Link. Sfortunatamente non saprei che altro fare per aiutarti. Link, verrò con te. In due forze riusciremo a cavare un ragno dal buco. Che dire? Mi auguro che troviate qualcosa. Questa situazione è surreale. Quindi dobbiamo andare a Virgopoli. Per ora la domanda sorge spontanea. Ho sempre una sola Furiable. Andiamo a Virgopoli. Sarà molto interessante capire cosa fare. Forse devo parlare con Maggior Domo qua? Ah, sì, con Lurch. Bene. Oh, benvenuti. Posso usare in qualche modo? Vedi, Lurch, c'è un problema. Capisco. Ciò che state cercando riguarda la leggenda del primo re. Non male, qualcuno che lo sa. Tengo però di non disporre dell'autorità necessaria di illustrarvi questa storia. Parla con la tua principessa, là. Proverò a chiedere udienza alla principessa. Per favore, attendete qui. È un po' strano sto DLC, eh. La principessa... Eh, meno male, dopo che l'ho sconfitta a Pokémon. Prego da questa parte. Beh, dopo la batosta che gli ho rifilato. Dall'ultima volta. Stai ingrassata? No, chiedo. Eccoci qua. E allora? Chi si rivede se non è Link? E chi sarebbe? Da quel che mi ha comunicato Armando siete qui per ricevere informazioni sulla leggenda del primo re. Ho ragione. Bene, permettimi di iniziare dicendo che non si tratta di una leggenda. Nonostante ora non sia così, una volta il regno di Virgopoli era molto più estreso e influente. Questo, con il passare del tempo, ha portato spesso a creare leggende che vedono come protagonisti i vecchi re. Anche il mio bisnonno. Tuo padre e il tuo nonno, no? Armando racconta. Beh, ma... Ok. Certo, mi ledi. La storia del primo re fu accomunata erroneamente una leggenda, ma non era altro che la realtà dei fatti. Lasciate che vi racconti di questa storia. Molti, moltissimi anni or sono. Vi era un uomo tanto buono e gentile, quanto rigoroso e ligio. Egli riuscì a creare una schiera di seguaci tanto affiatati ad acclamarlo come re. Era il primo re del regno di Virgopoli. Bene. Oh. Durante la sua reggenza, la prima di molteplici calamità si abbatté sulla regione di Eldiu. Il primo X, a Egi Slash X, giunse sulla terra lasciando solo disastri sul suo cammino. L'avvento dell'indomabile Pokémon giunse alle orecchie del re, e il suo senso del dovere lo portò a prodigarsi subito per difendere la sua amata regione. Il primo re ed il primo X si scontrarono per giorni, quando alla fine il primo re prevalse su Egi Slash X, riuscendo a domarlo. Il luogo del loro scontro fu, da allora chiamato in modo da ricordare l'esito della battaglia contro quell'aspera minaccia, Via Vittoria. Carino il modo in cui l'hanno chiamata... Ho capito. Ho capito. Il primo X divenne un filato compagno del re, l'unico che fosse stato in grado di domarlo. All'osa morte però, il primo X non trova nessun umano degno di controllarlo, e decise quindi di rifugiarsi nel luogo del loro primo scontro per sprofondare in un sonno profondo, in attesa di un'altra persona in grado di tenere di testa. E noi dobbiamo andare a svegliarlo. Praticamente Mjolnir. Palesemente. Ad oggi il primo X è ancora assopito all'interno della mia vittoria. Un'equipo di scienziati del regno è stata incaricata di studiarlo, ma senza risultati. Eh, sono certo che stiano bighellonando invece di impegnarsi. Tutti quei fondi li avremmo potuti spendere in dolci per la sottoscritta! Eh, c'ha ragione qui. Però lo stanno bighellonando, dai. Vorresti permesso di andare a controllare di persone primo X? Armendo! Buono. Fai in modo che i nostri ospiti vengano e ti lasciano passare per controllare il luogo dello scontro? Subito vostra grazia. Eh, eh, se Link dovesse riuscire nell'impresa avrei più fondi per i miei dolci. Ti auguro buona fortuna! Ma tu pensaci un attimo, bimba. Sei la... L'erede del primo re. Ok, tu vai a Montezudio e qui vado a controllare il luogo dello scontro. Avvia vittoria. Non preoccuparti, non farò l'errore di entrare. Speriamo. Sì, dall'entrata probabilmente. Va bene, cerchiamo un posto Pokémon allora. Questa parte l'ho velocizzata perché da una parte volevo sì mantenere un let's play completo, ma dall'altra non volevo che voi soffreste per tre minuti. Io che vado in mezzo alla grotta a cercare dove era Aegislash. E sia chiaro, tre minuti senza sbagliare strada. Questo volevo precisare. Comunque godetevi la musichetta e la strada. Eccomi qua, scienziato. Xolot. Oh, eccoti. Sararmando mi ha spiegato tutto. Puoi procedere. Ah, ovviamente già sbaglio strada. Bene, bene. Ah, era un punto in cui non l'avevo ancora controllato la prima volta che sono stato qui. Oh cavoli, sapete che mi ricorda? Monte Argento. Identico spiccicato a una sezione di Monte Argento. Uguale. Ah, qua c'era qualcosa. Che troviamo qui? Beh, mica male. Guarda, la xenolite la recupero con piacere. La xenolite è l'unico strumento che brilla così. Oh, oh, eccolo. Salvello, tottichello. Proviamo a impugnarlo? Sì. Ci sono due leggende. Mjolnir e Spadale della Roccia. Ovviamente ora attacco. Vai G. Quante barre hai? 18? Eh, dai. Ah, solo due. Non male. Pensavo di più. Allora, non so se si può catturare o se devo sconfiggerlo. Le cose sono due. Non so il tipo. Vabbè, acciaio forse e psico. E non spettro. Ah, spettro. Rimane spettro forse. Ok. Ah, male. Ah, oh! Folletto! Ok, sei tipo... Tipo folletto acciaio. Spettro tuffa e fisica. Ti mando un mio amico che ha carta vetro e... Vi torzo l'elmo. Guarda lì che danno. Guarda, amico mio. Ti faccio un lanciafiamme di circostante. Vabbè, come l'ho detto, come l'ho detto. Scusa. Gli trovo ampata, non lo so. Magari lo scoppo. Però è più veloce, che cavolo. Ah, ma i miei Pokémon sono al livello normale. Non sono al livello 100. Che cacchio. C'è forza, dai. Eh, cosa sparisce all'istante. Dai. Non è acciaio. Non è acciaio, però è folletto. È folletto sicuro. Sì, infatti, acciaio è super efficace. Eppure vulneropolis ha. E che cos'è? Interessante. Ho capito, ho capito. Va bene. Riproviamoci. Mi ha sconfitto con carineria a brutto colpo a vita piena. Ovviamente. Se riesco a fargli abbassare la precisione anche di poco, è tanta roba. Non abbasserà mai. Non succederà mai. Tanto. Ah, ora è scottato. Meglio. Tanto non posso catturarlo. Chi se ne frega. Dai, su. Perfetto. Ora l'attacco di mezzato, quindi fa meno danni. Perfetto. Il sostituto ora dovrebbe essere perfetto. Non dovrei avere problemi. Più la difesa aumentata. Ok. Oh, brutto colpo. Non ha fatto nulla. Buono così, allora. Let's go, amico mio. Let's go. Eh, vabbè. Lancia strade non fallisce se hai il bersaglio davanti. Certo. Se il bersaglio non c'è. Eh no. Svanisce il sostituto. Ma che palle. Sei cattivo. Eh, bundero polizza. Ah, bundero polizza. Aiuto. Mi fa paura la bundero polizza. Ah, tentenna. Tentenna. Certo. Tentenna. Ovvio che tentenna, no? Va bene, va bene. Ah, è andato. Mentre era nell'altro universo. Perché con spettro tuffo. Il martello della roccia. Due per uno. Aegislash ti fissa in un silenzio solenne. Ricordandosi di un suo vecchio amico. Aegislash decide di unirsi a te. Diamo un soprannome. Se scrive così, Mjolnir, no? Senti la sua forte presenza vigilare su di te. È ora di dirigersi al monte Zodiaco. Bene, a questo punto prendo Aegislash e lo metto al posto di Rexwim. Eh, maybe. Ok. Ci sta. E... Bene, direi allora che... Eh, ora a livello 80, certo. Folletto spettro. Bel tipo, mi piace. Eh, ovviamente le statistiche fanno schifo. Nullo difesa. Eh, le mosse non possono fallire, ma non aveva nullo difesa prima, allora. Perché le mie andavano... Non andavano a segno quando faceva spettro tuffo. Nullo difesa fa andare tutto a segno. 100%. Vabbè, non importa. Allora, nel prossimo episodio andrò al monte Zodiaco a vedere che cavolo sta succedendo. E metteremo fine magari a questa storia. Io vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione, link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale magari, iscrivetevi. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!